ciao a tutti ragazzi io sono robbie e bentornati nel mio canale oggi voglio creare con voi dei diciamo dei sottobicchieri vorrei fare delle creazioni in resina a tema io resto a casa quindi stay home e andrà tutto bene allora io avevo fra l'altro in questa confezione con l'arcobaleno quindi direi che è perfetta avevo questi oggettini in legno di queste di questo tipo allora questo home che mi sembra perfetto per il progetto che voglio realizzare dei cuoricini e delle chiavi allora il progetto qual è vorrei fare uno strato trasparente ho scelto queste due forme vorrei fare uno strato trasparente inserire i miei dettagli in legno e poi dietro fare tutto uno sfondo arcobalenoso proprio per richiamare l'hashtag che adesso va tanto che hashtag andrà tutto bene proprio per combattere restando uniti questa situazione molto molto delicata allora però per prima cosa voglio prendere i miei glitter olografici voglio andare a fare un po una sorta di semicornicetta per raggiungere un pochino di luminosità e quindi vado a spalmare proprio con il pennellino così non è importante che io sia precisa dove vai vado a spalmare proprio questi glitterini olografici sul mio stampo questi essendo degli stampi in silicone tratterranno i glitter non li faranno spostare più di tanto e poi quando andremo a colare la resina però resteranno incollati mi raccomando ragazzi come vedete io sto utilizzando i guanti perché adesso andrò ad utilizzare la resina quindi proteggete sempre la pelle perché il contatto con la resina potrebbe irritare la vostra pelle la pelle delle vostre mani ok faccio la stessa cosa anche di qua voglio fare ecco in questa maniera proprio degli angolini giusto per dare quel tocco di luminosità che mi piace tanto ecco ok faccio un angolo così e faccio anche l'angolo opposto del mio rettangolino così senza badare ad essere precisa ok perfetto mettiamo via il pennellino mettiamo via il glitter e andiamo a posizionare i nostri oggettini in legno allora metterò un home qui una chiave in questa maniera no forse mi piace più così e di qua vado a mettere home qui centrale no metto home qui home qui metto una chiave al centro un cuoricino qui e un altro cuoricino qui benissimo così mi sembra che possa andare bene fatto questo io avevo già preparato la resina trasparente quindi con le dosi e le modalità di di mescolamento diciamo che sono scritte nel vostro nei vostri flaconi io in questo caso ho usato la resina eye creation della resin pro e vado a versare uno strato di resina trasparente su entrambi gli strati e gli stampi scusate in questa maniera ho paura che non mi basti per entrambi gli stampi allora faccio così metto un po qua e casomai ne devo andare a fare ancora un po proprio al volo al volo forse anche si facciamo bastare per forza ok sì invece penso che come quantità ci siamo adesso mi aiuto con la spatolina e vado ad aiutare un po la resina a prendere tutto lo spazio dello stampo ok ecco vedete che quando vado a schiacciare escono delle bollicine e questa è una cosa molto importante perché altrimenti queste bollicine non riaffiorano e vi rovinano tutta la creazione perché poi da davanti si vedono ok anche qui se c'è qualche bocchino in cui non è entrata la resina lo vado a riempire manualmente e schiacciare come ho fatto con l'altro stampo ok allora qui manca un pochino di resina ce la portiamo di prepotenza ed ecco poi mano a mano che passerà un pochino di tempo ovviamente questi cavo show non si andranno a spostare e allora dovrò avere la pazienza di rispostarli ogni volta e utilizzerò ecco perché lascerò qui la mia palettina e la terrò sempre con me va bene ragazzi detto ciò aspettiamo un attimo che la resina indurisca eccoci tornati ragazzi e ho fatto solidificare catalizzare un po aspettando qualche ora la resina trasparente che avevamo già versato insieme e ho già preparato in questi quattro bicchierini queste parti di resina viola azzurra verde e gialla e in ognuno di questi colori ho inserito anche dei brillantini dello stesso colore a parte per il verde che non li ho quindi ci ho messo quelli gialli ma funzionano benissimo allora bene andiamo a fare la nostra sfumatura arcobaleno quindi sperando di non fare disastri che cosa vado a fare parto da l'angolino qui metto un po perfetto poi passo al colore celeste ok poi già non io prendere prendo il giallo per fare l'altro angolino quindi mi raccomando ragazzi tenete bene a mente come volete strutturare il vostro la vostra sfumatura il vostro arcobaleno ed infine vado a mettere il verde dovrà prendere qui qui e qui ok per ora facciamo in questa maniera e adesso vado a fare la stessa cosa con quest'altro in quest'altro stampino ok perfetto le nostre sfumature sono in questa maniera realizzate non ci resta che aspettare di nuovo la catalisi di questo nuovo strato di resina che abbiamo appena messo e poi scopriremo come saranno venute le nostre creazioni quindi adesso per me sono le 10 e mezza di sera quindi riprenderò il video domani mattina ma per voi passerà solo un secondo eccoci ragazzi è mattina e io non vedevo l'ora di andare a scoprire le nostre creazioni che ormai sono belle catalizzate tra l'altro messo in questo stampino degli degli scartini e vabbè più che altro mi interessava vedere questi occhialini l'altro non lo riesco a tirare fuori e lo come vedete questi colori sono veramente belli allora iniziamo da questa rotonda ed eccola qui lucidissima è veramente bellissima bella 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 forse ho sbagliato a posizionare la chiave qui con questa parte sotto ai glitter olografici ma mi piace tantissimo guardate quant'è bella veramente veramente bella ok e vediamo questa più grande che secondo me è venuta più bella oh mio dio è bellissima anche lei è guardate quanto è lucido è bellissima è bellissima bella questa sfumatura è proprio è proprio perfetta come me la immaginavo guardate che bella questi appunto io ho pensato che si possono utilizzare anche come sotto bicchieri e mi piacciono tantissimo ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto in un commento mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi che mi fa veramente tanto piacere e mi raccomando hashtag andrà tutto bene e ci vediamo al prossimo video ciao ciao